È evidente, è evidente. È evidente che? Che il tuo problema rispetto a quello che ha fatto Dolores è un problema di percezione, di prospettiva. Non ha nessun problema di prospettiva, si è fatta scopare da un altro, mi sembra una cosa molto concreta. Ma pensa al suo punto di vista. Non ci voglio pensare al suo punto di vista. Lo vedi, è come dico io, è come dico io. Lei se l'ha fotta il regista e a te ti fotte la percezione, tale e quale. Va bene, cambiamo discorso? No, scusa un attimo, l'altro giorno ero in treno, stavo guardando fuori dal finestrino. E dove cazzo stavo andando? Che ti frega, ascolta, stavo guardando fuori. Ma non è che hai preso un treno, no? Ma l'ho preso, ascolta. Ma perché devi raccontare le cazzate? Ma non sono cazzate, ascolta. Guardavo fuori da sto cazzo di finestrino. E a un certo punto appare nella pianura un camion gigante e un vecchietto di 130 anni che se lo dipingeva tutto di rosso. Cioè, la cosa più bella del mondo. Solo che ho pensato che io quella scena lì la stavo guardando attraverso un vetro. Di conseguenza ho messo a fuoco sul finestrino e ho visto che qua in basso ha un centimolo della mia faccia. Cioè, è una scrittina piccola piccola che se continuiamo a guardare fuori non avrei mai letto. Che scrittina? L'amore è una scureggia nel cuore. Cioè, ti rendi conto? Cioè, tu te ne stai tranquillo, in treno, stai guardando lo spettacolo più bello del mondo e un deficiente da scritto sotto al naso una cazzata del genere. È chiaro? Sì, ma che cazzo c'entra questo con me, Dolores? C'entra che tu ti sei fissato con sta scrittina del regista e hai smesso di guardare fuori quello spettacolo meraviglioso che è Dolores. Questo c'entra, Andrea. Dai. No. Cazzo, non ce la faccio. Più forte di me è tutto troppo in fretta. Non ce la faccio. Ma è il mondo che va in fretta, Andrea. È il mondo che va in fretta. Non vivi mica più nel 500 che non succedeva mai un cazzo. Adesso le cose corrono. Torni a casa la sera e ti trovi tutte le più. È porno. Andrei alla Champions League. E dai. La Coppa dei Campioni che fine ha fatto? Sparita, dimenticata, scorta. Tra niente più Coppa dei Campioni. Sono cose che fanno pensare. Cazzo di guai.